ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su dragon ball xenoverse 2 siamo qui esattamente a canton city ragazzi a quanto vedete ho cambiato la suite diciamo ho mantenuto le scarpe e i guanti soliti e questa tutta qua l'ho ottenuta durante l'evento di freezer però non ho ben capito come sarebbe finito perché era talmente lungo sono dovuto spegnere per dover andare al lavoro o dormire qualcosa qualche orette quindi non so come finisca quell'evento anche perché si combatteva e basta adesso qui siamo qui per fare una un ride vediamo dalla polvere alla polvere quanti vediamo se riusciamo a trovare una stanza o comunque cerca vai abbiamo trovato una stanza con cui fare il ride a quanto pare abbiamo un po di gente ok siamo in quattro ce ne mancano altri due ok uno ne manca flexing on you però una connessione bassa lui ragazzi è il primo ride che faccio in 5 andiamo io vado con il mio mi scrivete raga qui nei commenti delle mosse da procurarmi nuove da poter testare perché ho ancora il vecchio setup di quando portai la serie dalla polvere alla polvere alla polvere sconfiggi i cybermen Ma il vestito della... Dai, colpiamolo, colpiamolo Perchè non gli faccio danno? Mia, sei autodistrutto con me Orcosudo Un patroller Eh, ma è buggato, mi sa, eh E danno non gliene... Non gli facciamo danno Ah no, sì, l'abbiamo fatto Salute residuo a 5.170.000 Ok, e li stiamo facendo i grossi danni Bravi, bravi, bravi No, ma dove stai mirando? Ahia Eh, è un po' un casino, rega, sto Raiden Ho fatto dare anche la cosa, ma ormai... Oh, ho usato la Super Cup con la Gigante, lui Cioè, è ottimo Perchè mi cambia la mira? Vai, così 5.161.000 Beccati Non l'ha beccato Ma non l'ha beccato Cioè, tutti con il raggio letale dell'imperatore Stanno andando Beh, la battaglia Oh, ho usato No, no, no Non l'ha beccato Thessera Mi va a fa un baio me l'hanno spostato Cavolo La cosa non me la ricordavo più Vai Vabbè ce l'abbiamo fatta Sono arrivato Ultimo No sono arrivato terzo Mamma regà Oddio per noi Ok Ho ottenuto Un po' di medaglie Una medaglia Eh ma non capivo perché non potessi fargli le combo normali Cioè boh Cioè questo era un ride Eh no è un attimo Adesso siccome ho poche Quante medaglie ho? 75 Eeeh Troppo poche Però riuscirò a raccimolare un po' di medaglie Poi vi farò vedere alcune cose Poi ho fatto dei nuovi DLC che sono usciti Ancora non vi ho fatto vedere Sì Ho aggiornato ma non vi ho fatto vedere che ho i DLC Poi se volete dei capsule opening qui sul canale fatemelo sapere Andate no Adesso siamo a vedere un attimo solo la La cosa qui Non è sempre tanto lo schifo questa qua Oh questa è nuova Oh sì Freezer N però Che sono state Se non sbaglio Implementate nuove Mi sembrava di poter vedere Da qualche parte L'elenco di tutte le miniature Eccole qua Vedete Sono 26 29 Vedete Tutte queste le ho ancora trovare Io non ho fatto più capsule opening Però Alcune le dovrò scartare Perché ce le ho da un cifro E interro solo le più alte C'è krill Oh no Non stavo dicendo Il krillin ur No Tutto questo ho fatto Delle nuove Non ne ho vista nessuno Pan Non ne ho solo queste Ragazzi devo fare un po' di capsule opening Non mi sa eh Un'altra mia daglina E niente E niente raga Ehm Oggi vi ho voluto mostrare Questo ride Anche perché non sapevo neanche Che ci fosse un ride Volevo fare qualche missione in parallela Ma Fortunatamente abbiamo visto qualcosa di nuovo Ehm Il tuo pride trooper Se è meglio che lo vediamo così Perché Ok E niente raga Io direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io Come sempre Vi invito A lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao belli